È intitolata a Francesca Reversi, scomparsa poco più di un anno fa e al cui entusiasmo si deve la nascita della sezione rivana, la nuova sede di Alto Garda Solidale Onlus, al primo piano della palazzina Ex-Omni in Viale Pilati, inaugurata nella tarda mattinata di oggi. È stato anche lanciato un appello. Chi ha del tempo da dedicare al prossimo, contatti l'associazione, la cui attività si basa esclusivamente sul volontariato. Alto Garda Solidale inaugura oggi la sede di Riva del Garda. Soddisfazione, Presidente? Sì, molta soddisfazione, specialmente verso il comune di Riva del Garda, che è stato molto gentile e soprattutto ha capito i bisogni che la popolazione rivana, diciamo, della povera gente, della gente bisognosa che ha bisogno, anche perché tutti i mesi che passano abbiamo sempre di più famiglie bisognose che vengono, diciamo, a bussare alla porta. Quali sono i numeri dell'Alto Garda e di Riva in particolare, di gente che viene a chiedere questi generi alimentari? Qui bisogna separare un attimo l'estate dall'inverno. L'inverno purtroppo abbiamo circa una sessantina di famiglie. D'estate, cioè in questo periodo, grazie a Dio, lavorano anche in giro e allora c'è meno famiglie bisognose. E c'è un particolare molto interessante e veramente valido delle persone che hanno bisogno, che in questo momento però hanno trovato un lavoro e con il sorriso sulla bocca ci vengono a dire grazie, questo periodo non ho bisogno, vediamo se a settembre o ottobre e com'è la situazione. L'Alto Garda Solidale è Arco Riva Messe Insieme, io ho detto 60 circa famiglie bisognose di cui possiamo separare un 45-50 Arco e un 10-15 Arco a Riva del Garda. Può spiegare brevemente come funziona la vostra organizzazione? Sì, noi abbiamo un furgone che è gentilmente offerto dalla Cassa Rurale di Arco, del Lions Club, del Rotary Club e del Roy Table che ci hanno dato questa grande possibilità di comprare questo furgone e con questo furgone noi tre volte alle settimane passiamo nei vari supermercati a prendere il fresco, cioè quella merce che nelle 24 ore si deperisse o il supermercato lo butta via. Allora noi passiamo, lo raccogliamo e lo portiamo nella sala di Arco. Arco viene smistato un po' in Arco e un po' a Riva del Garda. Tre giorni alla settimana, vale a dire il martedì, giovedì e sabato facciamo questo servizio. Per un totale di circa d'inverno sulle 400-500 persone che tutti i tre giorni alla settimana gli diamo il sacchettino. D'estate, ripeto, molto di meno perché grazie a Dio trovano da lavorare queste persone. Un'attività che è possibile grazie al volontariato. Sì, grazie a tutti i volontari che è veramente eccezionale, sono delle persone veramente eccezionali a una a una. Si adoperano sempre in tutti i modi pronti ad aiutare queste persone bisognose. Siamo circa 30 persone fra Arco e Riva addette a questo scopo. La solidarietà trova spazio anche a Riva grazie alla sensibilità del Comune che ha messo a disposizione questi locali. Sì, diciamo che la solidarietà è da tempo che ha trovato casa a Riva. Oggi comunque siamo felici perché anche Trentino Solidale, Alto Garda Solidale, può avere spazi più adeguati rispetto a prima. Già prima avevamo una collaborazione e mi piace ricordare la Francesca perché con lei abbiamo iniziato tutti. Francesca Reversi aveva trovato fin da subito un punto di appoggio nel circolo pensionati. Oggi riusciamo anche in memoria sua a trovare una soluzione più adeguata e più consona alla loro attività. Speriamo di poter essere sempre vicini a questa associazione e a tutto quello che sta facendo per il nostro territorio. Il Comune di Riva del Garda è molto disponibile, vi ha offerto questa sala in forma completamente gratuita. Com'è la situazione di Arco? Per contro, purtroppo, la situazione di Arco non è tanto per la quale. Noi siamo delusi della poca attenzione che ci riserva il Comune di Arco. Se pensate che noi da tanti anni operiamo in Arco e siamo sempre in una sede dove una persona che veramente col cuore in mano ci dà i suoi locali a uso gratuito. Non vorrei tanto fare questo nome ma lui me l'ha proibito. Soddisfazione per avere questa sede di Alto Garda Solidale qui a Riva del Garda e un'intitolazione particolare? Sì, siamo molto soddisfatti e molto contenti di essere riusciti grazie al supporto di alcune amministrazioni locali. L'intitolazione è particolare ma è partita da colei grazie alla quale questo è stato possibile, cioè Francesca Reversi che adesso non c'è più purtroppo, ci ha lasciati l'anno scorso all'improvviso e fu grazie a lei che riuscimmo a mettere in piedi con tenacia dopo circa un anno e mezzo di prove questa sede di staccata di Riva del Garda. Quando poi abbiamo incontrato Franco Vassallo siamo riusciti a creare quello che oggi è la realtà di Alto Garda Solidale tra Arco e Riva.